Ciao amici, allora siamo arrivati nella casetta di Nizza, vi porterò con me in questi dieci giorni in cui saremo qua, ma gireremo un po' la costa azzurra. Sarò vedere un po' di posticini carini, vi porterò con me. Non ci sono i piatti, non ci sono. Non ci sono i piatti. E niente, quindi vi porterò con me. Guardate, c'è la bov window, io ho un debole per le bov window. Qua c'è la bella cucina così, qua c'è Pido, dov'è? Olio e aceto. Olio e aceto, fantastico. Guardatemi qua, ciao. Camera da letto con il bagno. Guardate che bella doccia tra l'altro, bella spaziosa. Questa è la visuale sul mare. E di là c'è tutta la parte di Nizza, vecchia, con la parte del mercato. Oh la madonna, ma questa è ingegneria. Adesso andiamo a mangiarci una bella piadina che io adoro. Vengo qua a Nizza solo per questa piadina. Allora, alla fine ci siamo presi l'insalata, ma perché? Io ho detto che ci facciamo la spianata, la piadina, quella roba lì che prendevo io di solito. E' chiuso. L'abbiamo portato su le valigie, ci siamo cambiati velocemente perché eravamo sudati i valici. E adesso scendiamo a spostare di nuovo la macchina perché il parcheggio in questa città non ce n'è. All'inizio abbiamo trovato un posto in un parcheggio chiuso, diciamo. Come ti senti? Con tanto di una che ci urlava dietro perché cercavamo il parcheggio comunque con calma, no? Perché uno deve vedere se c'è posto. Senta spesso a urlarsi dietro. Ok. Top. Siamo fermati a prendere una bella spremuta d'arancia perché stavamo avendo un mancamento. Fa troppo caldo. Un mancamanto. Un mancamanto. Allora amici, mi sono fatta una bella doccia perché fuori faceva troppo caldo. Volevamo andare a fare un giro in centro nella piazza centrale ma no, faceva troppo caldo. Tra un po' usciamo, andiamo a prendere la macchina dal parcheggio e questo è il ticket e la metteremo in giro per la città. Vediamo se troviamo posto e poi ce n'eremo fuori. Siamo pronti, vi faccio vedere l'outfit qua. Va bene. Allora, siamo pronti vestiti da sera. Ci facciamo un bel piatto di cotte stasera, vero? Orosho. Orosho. Guardate qua le mulle con il gorgonzola, rochefort. Buon appetito. Piatto pulì. Piatto pulì. Qui siamo con la faccia nella pentola. Guardate qua. Adesso ovviamente si fa la scarpetta. Buon amici. Allora, ieri siamo andati a dormire subito perché quelle cozze lì ci hanno stesi. Adesso è l'alba. Mi ha svegliato alle otto. Ok. Mi offre la curazione in un posto carissimo, bellissimo, il mio preferito. Ragazzi, questo è il vestito del giorno 2. L'ho preso in viaggio venendo qua. Nell'antica sartoria. Molto carino. Qui c'è Pido. Ciao, buongiorno Pido. Ci siamo seduti. Io prendo sempre questa. Che costa ben 11,90 euro. Però ne vale la pena, ragazzi, ne vale la pena. C'è questo con le marmellatine. Sta procedendo così. Come ti senti Pido? Ve l'ho detto io che ne vale la pena. Abbiamo anche ordinato due cappuccini. Ciao amici, allora siamo arrivati. Ci siamo lanciati in acqua perché faceva troppo caldo. Fa troppo caldo. Al momento siamo in spiaggia libera e poi ci mangeremo qualcosa e vi farò vedere il paesino. Allora, qua stiamo arrancando. Come potete vedere ci sono molte scadi e in grossa salita. Che c'è Pido? Il paesino è questo. Sembra molto... Carino, carino. Ho preso una soupe de poisson, zuppa di pesce. Qua dentro c'è il resto. E Pido si è presa una fantastica insalatina. Una bella zuppa di pesce caldo, quella che ci vuole. Buona. Per concludere un insalatina in due. Com'è? Buona. Molto buona. È bianco dell'uovo. Fa caldo. Fa tanto caldo. Pido si sta cambiando il costume. Adesso torniamo a Nizza perché veramente si schiatta. Ci chiuderemo dentro Galleria Lafayette. Per chi non lo sapesse, è tipo un grande magazzino. Tipo rinascente. E niente, ci piazziamo lì con l'aria condizionata. Comunque ragazzi, volevo farvi vedere i nuovi sandaletti che mi ha comprato il Pudo. Di questa marca. Io prendo sempre cose di questa marca perché sono comodissime, indistruttibili. Mi durano sempre anni. Siamo arrivati, c'è un bel fresco, c'è un'aria condizionata e adesso ne va alla ricerca del bagno. First of all. È stanco? No. Non mi sta? Sì. Bello. Siamo arrivati a casa? No. Stanchi. Oggi ci mangiamo una bella pasta a casa e poi vi porto con noi per un gelato. Io mi sa che mi prenderò una crepe. Allora, questo è il vestito che ho comprato oggi. Faccio vedere il colore da vicino. Molto bello. Dietro è così. Quindi posso facciarlo qua. Che ne pensate? A me piace assai. La nostra cenetta. Pasta al ragù. Una birretta. Siamo outfit della sera. Sto facendo del mio outfit ai follower. Vabbè, ciao. And what about this? Buona. Quanto vorrei mettermi qua sotto e bere tutto il cioccolato. Ci guardiamo un po' di mercatini e poi andiamo a Nana. Comunque tra la balla e l'altra sulle undici e mezza. E domani ci svegliamo alle otto. Appunto. Allora, è mezzanotte e trentotto. Io sto montando il video che state guardando adesso. Perché voglio postarlo il prima possibile perché mi va. E quindi, niente, finirò di montarlo e andrò a dormire. Il video è già andato. Spero che questo vlog dei primi due giorni vi sia piaciuto. E niente, un bacio.